Il gennaio del 2021. Sentiamo Antonio Scopettuolo. Sono 50 gli appalti sospetti finiti sotto la lente della procura di Velletri. Lavori di manutenzione, adeguamento di basi, infrastrutture dell'aeronautica militare affidati tra maggio 2017 e gennaio 2021. Secondo gli inquirenti, l'assegnazione dei cantieri avrebbe celato un giro di tangenti. Affari per circa 3 milioni di euro che coinvolgono militari, titolari e dipendenti di ditte edili. 39 gli indagati, 14 arresti, 10 all'obbligo di dimora. Tra loro 12 appartenenti all'aeronautica. Le ipotesi di reato vanno dalla frode nelle pubbliche forniture alla corruzione e alla falsità ideologica. Lunga la lista dei lavori sotto accusa tra Campania e Lazio, in particolare da Ciampino a Pratica di Mare, Borgo Piave, Grazianise e Somma Vesuviana. Le indagini parallele a quelle della Forza Armata sono partite da un accertamento su due militari del reparto Eugenio di Ciampino e risultati proprietari di una società idile privata. La procura ha voluto vederci chiaro, soprattutto perché entrambi, in quanto militari, avevano anche incarichi nella gestione degli appalti. Così, da alcuni accertamenti finanziari, sono emersi i movimenti di denaro tra uno dei due e le ditte che operavano in regime contrattuale con l'aeronautica. Secondo le indagini dei carabinieri, i due avrebbero ricevuto prestazioni d'opera e materiali, mentre altri colleghi, con il compito di vigilare, avrebbero chiuso un occhio. Una notizia che ci riguarda, riguarda il fisco, perché sarà online la dichiarazione dei redditi precompilata dal 2 di maggio sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con molti più dati, tra questi anche i canoni d'affitto. Ci sarà la possibilità di delegare qualcuno a compilarla. Allora, vediamo tutte le novità con Alessandro Marchetti. Bisognerà sempre meno integrare la dichiarazione, dove tra i dati quest'anno ci saranno anche i canoni d'affitto. A otto anni dall'avvio, la precompilata 2023 è ai nastri di partenza. Dal pomeriggio del 2 maggio, i contribuenti, accedendo con Speed, carta di identità elettronica o carta dei servizi, potranno visionarla sull'Agenzia.